Poi siete riusciti quest'anno già a vincere qui, una partita straordinaria con una vittoria in proprietà. Chiedo cosa dovete fare di simile potrete aggiuntare ovviamente rispetto a quella partita. No, è uguale a quella partita, però oggi ha passato i primi minuti che sicuramente per l'anno siano importanti. Quindi faranno di tutto per mettere tanta intensità e poi far riuscire il nostro gioco come l'abbiamo fatto sempre o come l'abbiamo provato sempre. In quella partita siamo riusciti a farlo, abbiamo avuto la palla più tempo e alla fine l'abbiamo fatta male. E la seconda invece è sul fatto che soprattutto nell'ultimo mese avete fatto una scorpacciata di vittoria con i primi anni. Avete fatto l'Inter, l'Invento sulla Roma, il Milan adesso. Se pensi che sia stato un ulteriore salto di qualità di questa squadra a riuscire a vincere tutte queste grandi stili? Sì, soprattutto grande coraggio, mentalità positiva a tutta la squadra. Abbiamo cambiato tanti i giocatori, tutti hanno fatto benissimo. Credo che la forza di questa squadra, l'ho detto tantissime volte, quando sono a Querenzina, questa è ancora di più. E speriamo di rimanere su quella strada e che sicuramente sia quella giusta.